Il gioco è semplice, c'è solo una regola, niente armi. Combattete finché solo uno resterà in piedi, sarai tu, oppure tu. Chi vincerà la maschera d'oro? Avete il prossimo sfidante criminale! Chi altri vuole zareggiare? Ci sono altri sfidanti? La! Fatemelo scappare! Ehi, Giulia! Sembra che costui si creda un campione. Vai, Dante! Sì, fagli vedere quanto si sta illudendo. La forza è Dante! La forza è Dante! La forza è Dante! Non c'è nessun altro a sfidare quest'uomo sul palco? Abbiamo un vincitore! Oh, abbiamo degli sfidanti! Dunque è così che la mettiamo, eh? Dove credi vien da? Dove credi vien da? Dove credi vien da? Signore e signori! I giochi di carnevale si sono conclusi in modo glorioso! Venite a vedere il vincitore mentre riceve la maschera d'oro! Il nostro vincitore si è dimostrato il piede più veloce! Il campione più forte! Lo stratega più accorto! E di certo, il preferito delle donne! Avendo vinto lealmente i quattro giochi, il vincitore è... Il vincitore della maschera d'oro è... Dante Moro! Congratulazioni! Ci vediamo quest'assi! Ciao! 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 Grazie.